mi fa tenere voglia di cocciare paolo posso provarti una roba ma un giorno potremmo fare un la reborn contro il team kia c'è il team di penna che lo raggiungerete perché se gli altri sono tutti diamond sì è vero effettivamente pesante questa che stiamo sbuendo un po le partite poi ci arrivo non ti preoccupa se anch'io posso arrivare tranquillamente diamante non c'è il ta bambini dai giochiamo poi non facciamo lo stesso errore il game di prima cioè non vi voglio sentire troppo troll dopo questo ci riposiamo e facciamo quattro chiacchiere però adesso già la draft sconcentrati a simo mid mid giungla p ci ha fatto schifo sbaglio secondo me era era forte ma alzare contro ecco però io anche quella lì non l'avevo mai giocate poi il fatto che ha partito comporre kill era un po c'è la perché è successo il casino perché quando vai a fare l'invade e inirli si mettono le ward il jungler non so se è stato quello sweeper io però quella roba è illegale perché tu hai bisogno di avere la vision là se non gli invadeno glielo puoi fare poi ti arriva more day kaiser eccetera eccetera c'è tutto ma io ti dico che se quello lì fosse stato 0 0 salentato full farm e il game sarebbe stato molto 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 normale quando succede il casino poi quando picco ma alzare c'è vado i primi minuti al 6 vado full farm insomma c'è la draft stiamo concentrati sulla draft che il game è già cominciato allora kaiser con kaiser di solito vogliamo giocare ingegner non gesto ma l'avevi proposto però allora l'ho giocato però non mi ha piaciuto la cosa giocare queen è veramente di scemo la roba gradi tu premila è finita la altro di segnati su bravo ma io posso giocare zack qua posso giocare zack ma si va e non è anche zack ma che noti lo santo e ralava a in realtà nato si può cantare zack perché col grab di stop cc mi se mi prende con la visione però non vede nautilus e pensa a ok free game di zack c'è non è proprio così ed andrei sempre più immagino e dipende c'è andato siamo andati a p giungla forse potendo anche 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 a di mid però contro fizz ora vedo un attimo ora vedo un attimo che picco poi decido attento al ghost gp non so se si usi il ghost ma gp gp ma io potrei andare anche ione io potrei piccare anche ione hai bannato non niente scherzavo e allora devo andare a p per forza ragazzi ma io contro gp picherei ancora riven in realtà qua ragazzi io farei il set per il semplice fatto che mi vede lo vedo più solido come le in bulli contro che non volevo anche se stai giocando riven in va bene king non ti preoccupare poi arriva in king poi allora secondo me arriva su invoano e potrebbe volare il vero è vero o lì leo sicuro lo potrebbero buono aspetta che e gp qualcosa scala tanto cazzo allora anivia quindi laura l'unica cosa che stai davanti ad andrea grava naudius file a e la q e lo inizio ad attaccare se devi scappare fai la w su andrea ma la roba da scemi veramente va bene va bene ma allora io scusate una cosa ultima cosa di team fight cerca di bloccare più attacchi su più persone possibile quindi si avvicina a udir l'auto attacchi si avvicina gp l'auto attacchi perché basta che ne auto attacchi uno e quello sicuramente lo condanna lo stan ok va bene prego claudio scuse 300 pleno la prio quindi c'è lo ce l'ho poi vabbè gameplay anche late game quindi c'è poi comunque se c'è banno sia su in che cosa che riven comunque i primi tre bambini ce l'hanno ce l'hanno fatti quindi quindi potremmo piccata qualcosa deve che ne so però è comunque per me tre ban ce l'hanno ok allora va bene mid l'aprio questa è la domanda sì dai sì sì al 3 del 6 sì poi dopo il 6 è un po' più duro perfetto e bottri è contesa allora io vorrei fare botti botti to top che stai per i reds ah ok si si poi mi dà un po' più uno skill match up è un po' mid però però penso dal 3 un po' più poveriamo bene ragazzi si start di E su Braum eh Lauretta di E ok perfetto attenzione che qua potrebbero invadere stai davanti a casa avete un invade anche voi molto forte che avete Braum infatti boh ma beh ok con noi 10-10 questi invadono col grab di Nautilus di Nautilus sì il posizionamento è male Laura sei quella un po' più in pericolo perché se stringono da là sai dove ti conviene stare Lauretta davanti ai campetti del Braum brava tanto fare non vogliono invadere bene meglio così meglio meglio 10-9 ok faccio un valpaggio no quindi come detto io voglio fare il bot to top cercando di cantare Gangplank che essendo immobile è abbastanza un target easy per me o comunque li prendiamo un flash sicuramente esatto Laura davanti ad Andrea è proprio angosciante deve essere proprio angosciante una stalker un poliziotto bravo ok lisce botte in teoria perché è ancora un granel cespuglio sì sì ovviamente non ti farà la stai troppo paghetti no non devi prendere danno gratuitamente di mid questo sì lo guardo lo guardo lo guardo guarda quando farmo sti minon ho l'hai tra 9 secondi un secondo che mi muovo vediamo 5 aspetta mi grab 4 secondi sì se vuoi puoi saltare se penso avvicino a questo minion qua va bene va bene non ci arrivo troppo lontano finché non ho il doppio punto sulla E fanno troppo il range troppo corto ma Uri sta slow pushando piano piano fai attenzione a Udi che potrebbe venire subito da te top ok senso fare il resto della giungla prima il grab da oretta mi raccomando ah giusto cioè quando ti aggravi il grab è subito guarda Mito questo qua adesso mi dai a Beto quale dai vam questo comunque perfetto top li lasciamo lì eh questo non muore provo provo buono ok ho chiudere eh sì sì è qui possiamo anche chiuderlo eh sì io ragazzi non posso inizio ho un HP eh oh me l'ha dodgiato eh no perché mi ha usato quell'abilità lì che stompa ce l'hanno i W o il più tappello slow quello forse eh due secondi ha flashato eh mi ha interofero fatta ah non ci sono arrivato ah close va bene comunque ok ok la wave è good me ne vado me ne vado drago in 20 sì sì io finisco la mia giungla topside giochi per il drago adesso vediamo come siamo messi i bot e c'è la wave che mi push non posso non posso non giro adesso un attimo la farm vi voglio recollare ok mi muovo botside si maxa Q su Braum sì 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 ok no la E no la E ah infatti mi sembrava strano cioè chi maxa 3 punti in Q ma è troppo più solito da prendere la E sì la build di Kaisa per sto game mi faccio una quiz senti che mi sembra ragazzi non sono un fan è al drake 100% comunque io farei la andry però boh non c'ho l'eca il tempo ok uir ha fatto il drake e attenti bot e mid cioè potrebbe andare sia bot che mid perfetto mettere una pink allora io sono sono sempre botside guardo se possiamo fare qualcosa possiamo ingaggiare sì 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 anche brown può partire niente vai 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 è nontiless vabbè anche se no attenti alla R di GP attenti alla R di GP aspetta aspetta un secondino in più la prossima volta così riesco ad arrivare a romperlo più lontano ok qui ho guardato più che altro Laura può utilizzare i minion come testa di ponte per la W così sei più vicino guarda Swin no no attenzione Udir è mid ok mamma mia guarda guarda ancora aspetta che push in quella wave lì più che altro che loro sanno hanno portato qua posso provare a abitare però sì vanno back vanno back ok Udir è nella sua giungla topside sta farmando il prossimo obiettivo c'è l'herald tra 35 secondi ecco Udir guarda Nivia guarda Nivia ha flashato ha flashato come si dice Udir? no Udir scusatemi gp guarda 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 lo so lo so si lo so lo so allora questo e poi becchiamo ok c'è l'herald probabilmente lo saranno già facendo loro che quello è il top morto guardo era uno low non so non credo no no pensavo aderittato il grab questa colpa mia pensavo aderittato il grab no ho missato tutto pure io ok c'è un attimo un attimo l'herald se non è un problema si guarda il ward già che ci sono perfetto questo mid lo difendo io se vuole pushare ma non credo io però punterei su l'herald essendo che loro hanno fatto il drago così almeno sono qua sono qua se quello salti dietela lo vabbè poi anche andai via c'è braun c'è braun c'è braun ok c'è udir via 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 però ci sto anch'io sto arrivando anch'io ma ci metterò un pochino udir udir ho la passiva io oh che cazzo un anno di lui minore di tre vabbè attenzione GP qua bella fra virgolini cazzi vabbè fa niente ritorno top no in realtà abbiamo preso un botto di prio potremmo possiamo fare questo se sei con me che c'è una crashone che se c'è da ruotare su n ruota subito occhio udir mid buono e mid udir ok vediamo questo facciamo l'herald facciamo l'herald adesso appena si avvicina ancora lo fightiamo perfetto ok udir mi sa che bot side non griderei intanto lo sporo a marian loro hanno prio bot ma che cazzo il drago app ce l'ha 30 secondi attenzione ultimida this is their first gift sub in the channel grazie mille Gianni benvenuto pesce ma ti rendi contro poni a 4 ck più che king da 93 mesi a 100 festeggiamo promesso muovono bot muovono bot udir lasciamo il drago ragazzi non possiamo contestarlo io in realtà potrei beccare ti pare dietro no no c'è tutti no no cerchiamo di incitire questa infatti stavo provando una playa tu scegli fast quella web che arriva se riesci che lo daiviamo che caccio bella teling un bacino dove vuoi tu minore di 3 sta poccando un bot in realtà se pushi fast lo daiviamo questo vabbè io ho tornato gli ho fermato il back gli ho fermato il back ok ora vado vado vabbè person out ilus perfetto ulti gp bellissimo sto daiv chiapicchia la torre che qua con 7 la prendiamo anche spero di piazzarci ora perché sennò mi muoio il minion no ma non ce la fa perché non ce la fa se non ce la faccio vabbè va bene comunque va bene anche midlane come era la può regolare di piazzarlo midlane anche perché midlane avete Nivea contro che vi darà un sacco di problemi a distruggere la midlane capito sì 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 qui è un'altra placca mi si è preso un punto per la bot se stiamo giocando top lane e sappiamo che arriviamo a bot divappiamo anche addirittura divappiamo la torre però non cerchiamo il fight aggretriamo tutto qui allora Nivea non dovrebbe avere ancora la passiva quindi vorrei cercare di ucciderla e prendere la torre mid così apriamo la mappa io ti dico che posso roma a bot adesso ok attenzione a Nautilus qui questo qua madonna sì tipo tipo top lane per la wave anche se è un po' late 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 questo comunque è quella wave e la potele no ovvio attenti che è in missa Nivea ma non bacio anche a te guardala guardala un secondi sì 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 beto prendila sapete dove è il jungler no credo in missa vinciamo vinciamo questo che sta a fare la posso anche tankare un pochino io sto tankando io sto tankando io picchialo tankando io ok perfetto Udir Udir è top Udir è top c'è l'herald metti l'herald metti l'herald ok io sono pure vivo perfetto data di lusso Udir bot cioè sta avendo mid sta avendo mid Udir c'era da aspettare un attimo per l'herald vabbè non fa niente dai più che altro allontanati alla torre perché ci metti più con te vicino che con ad autoattaccarla vai prima a prenderti la giungla per sole in faccia devo abbassare la fupparella ok prima torre presa molto bene attento Zuck sì sì ok Udir è bot era qui eccolo Udir guardate a bot guardate a bot c'è anche la MW lì nel fight eh no io direi ragazzi non oddio forse sono vivo sono vivo ho salvato Nautilus ho salvato Nautilus io sono out ragazzi due secondi posso tornare in guarda Kate eh niente è giusto è giusto oh io ci sono mid a flancare mid bravo bello bello giocato bello giocato ok arrivo arrivo mid la ulto direttamente così almeno è safe oh no niente vabbè fa il giro giocca sta minimappa Claudione vedi che non hai ragione eh morirai sì no no non muoio vai via vai via occhio ok perfetto no non muoio non muoio buono buono ok no ma il fatto è che so giocare senza la minimappa alloccata e che mi viene abitudine cioè lo faccio per abitudine allora attenzione a Udyr qui allora i prossimi obiettivi sono il drago tra un minuto e mezzo ma ci sono ancora le due torri laterali up quindi come vogliamo dividerci in bella domanda ti devi sempre chiedere chi è il più forte per cui giocare Kaisa Kaisa lasciamo la bot e cerchiamo di prendere questa ok bravo oh sì poi ci muoviamo per questo che è il nostro primo però loro ne hanno già fatti due guardate attenti a GP sta mandando mid eh ma guarda lo chiudiamo lo chiudiamo questo lo chiudiamo lo chiudiamo perfetto qui ho guardato sono qua sono qua arrivo arrivo non dovrebbe essere troppo difficile sono pure set li spingo uno contro GP eh non li riesco a prendere no il prendo io così mi avvicino anche l'altro mano buona ah muori muori no no lo ammazzi oh mamma mia che giro della morte vabbè a questo punto rimango per il drago allora guardiamo bot arrivo bot arrivo bot anche un dive regalo un set non ho la R ma ma perfetto bellissimo maiala che io becco così non devo sprecare il tp torre e vado il drago sì sì andate il drago lasciate il caisse che puoi mettere la torre così non gli date armor extra che cazzo di mare vabbè l'armatura non c'è più più caldo no c'è più ok no sono morto ok ma madonna che culo l'ore anche questo momento critico perché è un momento si abbassa l'adrenalina perché gli avete appena spaccato il culo e uno dice vabbè abbassa abbiamo vinto mentre ora già adesso devi shot collare per il prossimo obiettivo va bene ok comunque se vuoi adesso arrivo all'herald facciamo l'herald ok lasciate back dovete shoppare prossimo obiettivo herald ma guarda che è udire bot potevo farlo anche adesso se vuoi set puoi andarci pure a startarlo e arrivo io no pusho prima la wave ok io vado a start all'herald ok ragazzi ricordiamoci però sempre qualcuno deve andare bot a difendere la porta aspetta che Anivia muore aspetta un attimo sarebbe meglio qualcuno col tpd allora qualcuno deve andare bot non esiste la domanda è chi va bot guarda qui arrivo 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 da te non gridare troppo no 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 non c'è da solo ok ci vuole set top si 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 io non c'ho l'herald direi sette ricorda pure fai bot ti prego non ti perdere la wave è molto più importante di queste kill per assurdo rischia di perdere addirittura anche e kaisa kaisa vai pure top si 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 tanto l'herald è caduto no si 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 e in questi casi lauretta più che stare lì autoattaccare che tanto levi danno dimmi tu dimmi dovrei andare con kaisa no dovresti andare a wardare assieme ora lorenzo perché prendere vision della topside è preziosissimo ok perché se tu walk di bene la topside cosa cade? la torre bravo ora gp lo deviamo sempre morto questo aspetta la wave non so dove sia la botlane né il jungler vinciamo sempre vinciamo sempre no no dico per me chi tanca anche questo è importante tanco io gp 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 vinderi vinderi adesso c'è ui reanima su mid ragazzi quello è free quello è free 3 secondi 2 io continuo a pushare gli do pressione ai botlane anche se mid dovrebbe essere difeso tipo io mid dopo dopo di più di più lore guarda davanti ok la torre è questa qualcuno che anche quello muore io rubo la giungla qui la domanda adesso sono due possiamo prendere la t3 se si vogliamo ricollare prima per il baron e mollare la t3 io vorrei ricollare prima per tornare e mettere vision al nasher anzi se riusciamo anche a scammare un po' di giungla esatto ricolliamo tanto l'herald la testata la tira perfetto basta pusharmi ecco così resetto e mi allora muoviamoci per baron vision ragazzi baron vision lasciamo usù in bot che tanto può fare anche 1v2 ripetiamo cosa vuol dire baron vision perché tutti dovete pensare la stessa cosa quando lui dice baron vision baron vision andare a mettere vision nella giungla prima di mettere la vision cosa si fa pushare le leite si pusha bene e cosa fa braum supporti kaiser prima kaiser dopo che abbiamo pushato vedi adesso questo non lo potete fare perché loro hanno già la priorità vi potrebbero ingaggiare ok 7 push pure la top prima prendiamo la priorità e dopo andiamo a wardare uscio la bot ragazzi uscio la top l'ultima wave e poi ci sono per il baron ok ud sono tutti i bot ragazzi potremmo già fare wardiamo wardiamo prima vengo 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 da voi il problema è che così dovevano startare king perché c'era 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 udir è bot l'unica c'era c'era l'ult di udir oh c'è anche flash e gp perfetto becco il drago rega in 50 il prossimo obiettivo era dragon 50 resettiamo prima però ragazzi usiamo il nash prima pushiamo la mid e la bot bravo ff ah vabbè gg ogni volta ci fanno ff in questo punto del game non riusciamo a chiedere va bene mi preoccupa un po' questa il pushare la mid prima non ce l'avete ancora anche il jungler può andare mid lane ok è importante fare numero mid lane aiutare andrà a pushare e dopo insieme andiamo a cercarli ok li andiamo proprio a cercare per ucciderli capito si questo è l'obiettivo da fare brown come è stato contro nautos all'oretta allora dato che era la prima volta un attimo mi ci sono dovuto abituare però ho capito come funziona è facilissimo siamo d'accordo si 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 ti grabato cioè ultavi grazie che mi hai grabato nautos questa è l'idea di base ok grazie grazie